Allora Antonio, facciamo la prova senza cavo, come ti ho fatto vedere ieri, accendo il radiocomando, rosso, adesso accendiamo Inspire, Allora, calibrazione e il link è diventato verde, rosso verde, rosso verde, rosso verde, rosso verde, rosso verde, Ancora rosso verde, rosso verde, rosso verde, rosso verde, per cui se io provo a armare non mi si armano i motori, Non mi si armano i motori, per cui io vedo che praticamente in questo momento è diventato verde, ora di nuovo rosso verde, ancora giallo, Giallo, poi verde, giallo, qui ancora rosso, qui ti faccio vedere come sono posizionate le antenne, mi sembra che le antenne, non lo so, come devono stare. Ok, adesso sembrerebbe verde.